Buongiorno a tutti, in questa lezione parleremo di functional programming, cosiddetta programmazione funzionale che come sapete in javascript assume un ruolo estremamente importante perché le funzioni sono elementi di prima classe in javascript e possono essere trattati come molti altri elementi, quindi oggetti array eccetera quindi passati, ritornati da funzioni, annidati in altre funzioni eccetera quindi è importante saperle usare al meglio, soprattutto con i pattern di programmazione funzionale che molto spesso vengono ritrovati nel codice javascript non solo quello che andrete a scrivere voi, ma anche quello scritto da molti altri sviluppatori quindi qui come sempre trovate delle indicazioni riguardo a risorse per ulteriori approfondimenti e andiamo subito a vedere che cosa di fatto è la programmazione funzionale forse non avete mai incontrato questo termine comunque è abbastanza semplice capire perlomeno il principio è un paradigma di programmazione quindi come la programmazione imperativa cioè sostanzialmente sequenziale in cui diciamo facciamo un'istruzione facciamo una seconda istruzione eccetera eccetera che diciamo è quella che avete imparato nel primo corso di fondamenti di informatica cioè di fatto istruite chi esegue le operazioni passo per passo sul cosa fare invece la programmazione funzionale è uno stile un po' più diciamo dichiarativo di tipo dichiarativo ovviamente basato sulle funzioni e diciamo che non è il paradigma principale di javascript come forse non lo è nessuno visto che javascript è adatto a molti paradigmi di programmazione incluso appunto questa programmazione funzionale se guardiamo questo esempio che è un esempio di principio e quindi di fatto ci fa vedere diciamo la differenza tra un approccio di tipo funzionale a sinistra e un approccio di tipo tradizionale imperativo a destra nel caso di uno dei casi più comuni che è quello dei loop quindi dei cicli per esempio cicli di tipo for nel momento in cui dobbiamo andare a lavorare che sto su un array questo array che inizialmente è vuoto diciamo che vogliamo filtrare qualcosa bene sostanzialmente l'approccio classico ci dice scorriamo l'array quindi una lista su cui dobbiamo andare a lavorare andiamo a verificare se l'elemento ogni volta soddisfa la condizione che ci interessa e se si la aggiungiamo al nuovo array e questo è diciamo un approccio di programmazione classico nell'approccio funzionale invece la cosa è molto più semplice nel senso che abbiamo direttamente delle funzioni che vedremo si chiamano funzioni di ordine più elevato che prendono come parametri delle funzioni che sono esattamente le funzioni che sarebbero utilizzate all'interno diciamo del nostro ciclo in questo caso per andare a fare l'operazione di filtro chiaramente il filtro ha una funzionalità generica e deve essere specializzata da una seconda funzione che dice sulla base di che cosa filtrare e anche in questo caso otteniamo il risultato come nel caso a destra alcune caratteristiche importanti del paradigma di programmazione funzionale prima di tutto le funzioni sono elementi di primo ordine quindi le funzioni devono poter essere usate come se fossero delle variabili costanti devono poter essere combinate con altre funzioni generare nuove funzioni, quindi ritornare nuove funzioni essere messe in catena con altre funzioni e così via tutte caratteristiche che abbiamo già intravisto in javascript e che sappiamo che javascript supporta molto bene abbiamo poi le cosiddette funzioni di ordine più elevato quindi una funzione che opera su altre funzioni che prende quindi una o più funzioni come argomenti e tipicamente ritornano a una nuova funzione abbiamo visto un esempio prima la funzione filter che prende come argomento un'altra funzione in quel caso ritornava nel REMO potrebbe ritornare a altre funzioni deve essere possibile comporre le funzioni quindi sostanzialmente comporre e creare funzioni per poter semplificare e comprimere le vostre funzioni e fargli ritornare l'input output che desiderate e poi deve essere in generale possibile fare il cosiddetto chaining con catenamento delle chiamate cioè ritornare un risultato dello stesso tipo dell'argomento quindi se passiamo delle funzioni ritornare delle funzioni in maniera che più operatori quindi per esempio più funzioni di più alto livello possono essere applicate in maniera consecutiva questo è un po' il riassunto in un'unica slide del paradigma funzionale dal punto di vista dei javascript javascript supporta queste funzionalità del paradigma di programmazione funzionale out of the box cioè direttamente non ci sono bisogni di attenzioni o di modifiche particolari come scriviamo il codice perché abbiamo detto che le funzioni appunto sono un elemento fondante di javascript che può essere trattato come array, oggetti e così via ancora una cosa riguardo alla programmazione funzionale programmare con questo paradigma significa cercare di evitare il più possibile la cosiddetta mutabilità cioè evitare di andare a cambiare gli oggetti in place quindi se abbiamo un array come abbiamo visto prima non dobbiamo andare a modificare l'array stesso ma dobbiamo ritornare a un nuovo array e quindi fare in questa maniera ci consente di facilitare tutti i processi che abbiamo visto prima per esempio il chaining e così via perché se andiamo a modificare gli array se poi c'è necessità di andare a utilizzare altre funzioni se abbiamo avuto una modifica dell'elemento su cui lavoriamo a causa della funzione precedente non possiamo più riapplicare la stessa funzione all'elemento sul quale abbiamo lavorato ottenendo lo stesso risultato e questo è un problema nella programmazione funzionale perché la programmazione funzionale sostanzialmente assume che le funzioni che andiamo ad utilizzare quindi andiamo a passare alle funzioni di più alto livello non abbiano sostanzialmente effetti collaterali cioè dato lo stesso input producono sempre lo stesso output e quindi abbiamo necessità di di fatto ritornare a qualcosa di nuovo per evitare che mantengano uno stato vediamo quindi come andare ad utilizzare in javascript questo approccio di tipo funzionale utilizzando principalmente i metodi che ci vengono messi a disposizione sugli array che sono appunto di tipo funzionale abbiamo già imparato ad usare meccanismi come il for of o il for diciamo più tradizionale diciamo tipo c però in questa lezione andremo a vedere questi metodi di tipo funzionale che quindi prendono come parametro principale una funzione una callback da andare ad eseguire sui vari elementi dell'array e vedremo quindi tutta una serie di metodi sei metodi che ci consentono di operare efficacemente su questi array utilizzando questo tipo di approccio e quindi realizzare diciamo un primo meccanismo di programmazione funzionale in javascript che ci tornerà utile poi per la parte successiva del corso in particolare quando andremo a vedere react che diciamo utilizza un approccio in cui molti elementi possono essere passati a delle funzioni che però devono evitare di modificarle e deve essere ritornato un nuovo elemento per eventualmente appunto che è stato processato ma che deve essere nuovo e differente appunto da quello che viene preso come parametro e quindi non è possibile modificare il valore in place e quindi questi metodi sostanzialmente ci verranno molto utili adesso andiamo ad analizzarli uno per uno con degli esempi e quindi vedere effettivamente come funzionano e come possono essere utilizzati andiamo ora a vedere ognuna di queste funzioni cominciamo dal for each il for each invoca la callback che viene passata come parametro vedete qui nell'esempio for each passiamo una funzione questa funzione prende un unico parametro questo parametro è l'elemento dell'array sul quale andiamo a chiamare la callback che è una callback di tipo sincrono quindi di fatto una funzione che viene immediatamente invocata ogni volta che abbiamo un nuovo elemento nel nostro array e fa la sua operazione e quindi svolge un qualche compito che è quello che noi desideriamo svolgere su tutti gli elementi dell'array preso come elemento sul quale andiamo a richiamare la for each notate bene qui ho scritto iterable non array perché come vedremo nell'ultimo esempio di queste slide funziona anche su elementi che non siano necessariamente degli array in questo esempio abbiamo un array di lettere che sono estratte con l'operatore spread spero vi ricordiate da una stringa e quindi abbiamo un array di un certo numero di string che alla fine sono dunque 11 come caratteri di hello world quindi avremo la stringa h, e, l, eccetera eccetera qui abbiamo una stringa uppercase vuota inizialmente col for each con questa callback ogni volta letter verrà h, e, l, l, eccetera e noi aggiungiamo uppercase, quindi alla variabile, la versione maiuscola della stringa cioè di fatto dell'unico carattere che andiamo a passare sapete che in javascript non ci sono i caratteri ma ci sono solo le stringhe e quindi il risultato finale sarà hello world in cui abbiamo convertito ogni singolo carattere in maiuscolo questo è il dettaglio della for each trovate sempre il riferimento che è utile consultare sulla Mozilla Developer Network nel caso di dubbi la for each prende una callback che può avere tre parametri abbiamo visto l'unico parametro obbligatorio che è l'elemento da processare che è quello che prima abbiamo scritto come letter ma può ricevere anche due altri parametri opzionali l'indice all'interno dell'array quindi 0, 1, 2, eccetera e l'array stesso sul quale la for each è stata chiamata questo perché potrebbe venire comodo avere a disposizione l'array per esempio per avere a disposizione informazioni come la lunghezza e così via notate bene che il for each ritorna undefined ed è una di quelle funzioni che non è possibile mettere in catena con altre proprio perché non ritorna nulla diciamo è una funzione che abbiamo incluso qui nel set delle slide della programmazione funzionale perché di fatto usa questo approccio di usare una funzione da applicare ad ogni elemento all'interno dell'array dell'iterable su cui opera però è leggermente diversa dalle altre perché appunto non si può mettere nella catena di funzioni di alto livello tra l'altro notate bene che non c'è nessuna maniera di fermare l'interazione della for each se non lanciando un'eccezione quindi non possiamo mettere un break come metteremmo in un normale for off ma la for each va avanti a meno che non lanciamo un'eccezione la for each come tutte le altre funzioni che vedremo non cambia l'array comunque siccome nella callback possiamo fare quello che vogliamo è possibile fare questa operazione all'interno della callback anche se sostanzialmente visto il paradigma di programmazione di cui stiamo parlando questo è sconsigliato vediamo ora le altre funzioni every every testa se tutti gli elementi nell'array passano il test che viene implementato dalla funzione che viene passata come parametro quindi la callback prende gli stessi tre argomenti del for each quindi c'è il solito argomento che è l'elemento obbligatorio più l'indice, l'array ritorna un valore di tipo boolean quindi frutti o falsi ricordatevi questa distinzione nel senso che abbiamo i vari valori stringa vuota, undefined eccetera che sapete che sono trattati in una certa maniera in javascript e la every esegue la callback quindi ciò che passiamo come funzione, parametro una volta per ogni elemento presente nell'array fino a che trova un elemento dove la callback ritorna falso e quindi se questo succede ritorna immediatamente falso quindi di fatto guardiamo l'esempio che è molto più facile da capire di tutte queste parole abbiamo un array, 5 elementi a, il nostro array every x, x è l'elemento x minore di 10 se applichiamo x minore di 10 al primo elemento è vero secondo elemento è vero e così via è vero per tutti e allora alla fine la every ci ritornerà true quindi perché tutti i valori sono minori di 10 cioè ha testato la callback su tutti gli elementi e ha sempre ritornato true e quindi ci dice true altrimenti, altro esempio every x è l'elemento x modulo 2 uguale a 0 quindi il resto della divisione per 2 è uguale a 0 è falso perché basta vedere per il primo elemento fa il test 1 modulo 2 sarà uguale ad 1, non è uguale a 0 quindi la every ritorna immediatamente e ritorna falso quindi molto semplice da capire e di fatto ci consente di sapere se tutti gli elementi all'interno di un array soddisfano una condizione al contrario abbiamo la sum che testa se almeno un elemento nell'array passa la condizione che mettiamo come parametro di nuovo la callback la sum ritorna un valore booleano la callback è di nuovo come quella di prima e quindi va avanti fino a che trova un elemento dove la callback ritorna un valore vero e in questo caso ritorna immediatamente e quindi vedendo lo stesso esempio di prima se abbiamo appunto lo stesso array il primo elemento non sarà vero perché non è divisibile per 2 il secondo elemento 2 diviso 2 fa 1 corretto 0 e quindi modulo 2 fa 0 e quindi è true e ritorna immediatamente cioè in parole povere c'è almeno un elemento pari all'inverno del nostro array nel caso sotto invece passiamo alla funzione che è già disponibile la isNone che ci dice se il numero è notenumber e ovviamente sarà falsa per tutti perché sono tutti numeri diciamo numeri che non sono notenumber e quindi ci ritornerà ci ritornerà falso avendo testato la condizione su tutti i numeri del nostro array passiamo ora a delle funzioni che sono diciamo un pochino più interessanti forse anche perché sono più utilizzate che sono la map e poi vedremo la reduce la funzione map passa ogni elemento dell'array sul quale è invocata alla funzione che viene specificata come parametro ecco la callback che in questo caso deve ritornare un valore e questo valore viene utilizzato per costruire un nuovo array che contiene i valori ritornati dalla callback quindi è un po' diverso dal caso precedente perché qui stiamo costruendo un nuovo array guardiamo gli esempi il solito vettore a 1,2,3 b uguale a map e usiamo questa funzione che diciamo calcola il quadrato dell'elemento dato e quindi se andiamo a vedere il risultato b è un nuovo array che conterrà per ogni elemento il risultato dell'operazione elemento per elemento e quindi x per x 1, 1 per 1, 1 2 per 2, 4 3 per 3, 9 quindi molto semplice vediamo questo caso quindi letters di nuovo è un array di 11 elementi perché l'operatore spread fa sì che diventi appunto di 11 elementi a partire da questa unica stringa letters, map, letter di nuovo letter to uppercase ma in questo caso in questo caso non scriviamo come abbiamo fatto prima dentro una nuova variabile e col più uguale aggiungevamo la nostra stringa qui semplicemente diamo un valore di ritorno ricordatevi il return è implicito con le arrow function questo è il valore di ritorno e questo valore di ritorno entrerà come singolo elemento dentro il vettore uppercase il vettore uppercase quindi è un vettore di 11 stringhe di un solo carattere vogliamo stamparlo? possiamo stamparlo direttamente e allora vedremo con la solita sintesi javascript aperta quadra h maiuscola, virgola e maiuscola eccetera eccetera oppure volendolo stamparlo come stringa possiamo usare la funzione join che unisce tutti gli elementi dell'array uno alla volta con questo separatore che è la stringa vuota e quindi di fatto ci costruisce la hello world tutta maiuscola come stringa però abbiamo usato un approccio differente prima costruivamo noi questo invece è un nuovo array come in questo caso questo è un nuovo array volendo visualizzarlo in maniera un po' più diciamo divertente potremmo chiamare la map morph array piece by piece quindi cambia la forma del nostro array pezzo per pezzo e questo è il pezzo e l'operazione è la trasformazione che ci deve ritornare un valore e questo valore viene messo nell'array risultato quindi qui fa più 1 diciamo questo è l'array iniziale 1.40.76 e diventa 2.41 eccetera eccetera quindi questa è la funzione input value trasformazione trasformazione che deve ritornare un valore vediamo ora la filter filter di nuovo crea un nuovo array con tutti gli elementi che passano il test implementato dalla funzione che passiamo come parametro quindi sarà un array di dimensione differente dall'originale potenzialmente perché passiamo questa funzione questa funzione viene usata su ogni elemento dell'array quando ritorna true l'elemento viene incluso nel nuovo array altrimenti non viene incluso e quindi ci sarà anche il caso in cui viene ritornato un array vuoto se nessun elemento passa il test solito esempio molto semplice consta a 5.48.2.1 quindi un vettore un array di 5 elementi filter x x minore di 3 allora lo includiamo beh il risultato sarà che avremo 2.1 li prendo in ordine perché li scorre in ordine e quindi questi sono i valori che passano a condizione minore di 3 ecco notate notate che quelle callback che diamo possono sempre avere parametri opzionali e addizionali potete andare a controllare sul manuale di ognuna di queste funzioni e come abbiamo visto per le altre ci sarà per primo l'elemento secondo l'indice e il terzo l'array quindi se noi volessimo per esempio prendere tutti gli elementi in posizione pari il risultato è questo perché l'elemento in posizione pari la posizione è 0 1 2 3 4 cioè l'indice dell'array questo index index posizione pari vuol dire che sono le posizioni 0 2 e 4 quindi 5 3 ed 1 quindi attenzione che con questi parametri addizionali possiamo fare operazioni anche un po' più complicate per esempio prendere solo un sottoinsieme ma basandoci non necessariamente sul valore dell'elemento ma anche su altre caratteristiche cioè la sua posizione e così via questa è la rappresentazione grafica diciamo del filter abbiamo il nostro array e diciamo lo facciamo passare attraverso un filtro e ci esce solo diciamo fuori quello che diciamo ci interessa ottenere notate che come dicevamo prima nel paradigma di programmazione funzionale non andiamo a modificare l'array originale ritorniamo sempre qualcosa di nuovo perché così il meccanismo funziona sempre a fronte dello stesso input abbiamo sempre lo stesso output data chiaramente la stessa funzione di filtro e la funzione di filtro non deve avere chiaramente dipendenze dall'esterno arriviamo quindi alla funzione forse più complicata che è la reduce in cui vedete la signature qui quindi la reduce prende una callback che è un po' diversa da tutte le altre una callback che prende due parametri obbligatori che sono accumulator e il valore corrente e poi c'è l'index e l'array come nelle altre diciamo per i casi particolari in cui eventualmente ci servisse questa funzionalità questi valori e in più prende la reduce quindi non la callback ma la reduce un eventuale valore iniziale con cui iniziare a lavorare e che quindi viene passato come accumulatore alla prima chiamata della callback la reduce combina tutti gli elementi di un array usando la funzione specificata quindi questa callback per produrre un singolo valore quindi a differenza di prima non produciamo un array ma produciamo un singolo valore questa è un'operazione abbastanza comune nella programmazione funzionale che viene spesso chiamata injection fold quindi diciamo fold ripiega e quindi crea un unico valore questa è la spiegazione di quanto vi ho detto a voce quindi la callback di fatto fa la riduzione combinazione dei valori e lo fa una alla volta quindi prendendo un valore che è l'accumulatore e il current value che è il valore estratto dalla posizione corrente dell'array che viene processato e in qualche maniera li combina e poi c'è questo valore iniziale che diciamo può essere specificato in caso di necessità oppure viene utilizzato di default il primo elemento dell'array andiamo a vedere un esempio perché detta così chiaramente viene difficile a capire quindi andiamo a vedere l'esempio vettore 5 4 3 2 1 reduce accumulator current value e facciamo una semplice operazione come dicevamo l'accumulator facciamo la somma facciamo la somma di questo array quindi accumulator all'inizio varrà 0 perché questo è il valore che ho detto alla reduce di usare come valore iniziale accumulator la prima volta che questa callback viene chiamata quindi verrà chiamata con 0 e 5 e mi restituirà 0 più 5 che è uguale a 5 poi al secondo giro questa callback verrà chiamata con accumulator 5 che è ciò che viene restituito dalla callback al giro precedente più o meglio più con un altro valore 4 qui si svolgerà l'operazione 5 più 4 9 e il 9 diventerà il valore dell'accumulator diventerà il giro successivo della callback 9 3 diventerà 12 avanti così e ovviamente otterremo alla fine 15 che è risultato il valore di ritorno dell'ultima invocazione della callback che verrà invocata quindi con 14 e 1 e ci darà 15 stessa operazione fatta con la moltiplicazione per esempio qui abbiamo accorciato il nome delle variabili per comodità di scrittura sulla slide partiamo con l'1 vogliamo fare una moltiplicazione di tutti i valori chiaramente dobbiamo dire diciamo di partire da 1 altrimenti otteniamo tutti 0 stesso meccanismo quindi prima invocazione 1 valore dell'accumulatore che l'ho specificato qui alla reduce e 5 e quindi nel primo giro avremo 1 per 5 5 5 viene usato come valore dell'accumulatore 4 avremo 5 per 4 20 20 valore dell'accumulatore per 3 60 e così via 60 per 2 120 120 per 1 120 il risultato finale possiamo anche usare la reduce per fare operazioni non necessariamente matematiche guardate l'esempio l'accumulatore è maggiore del valore se si accumulatore altrimenti valore cioè di fatto andiamo a calcolare il massimo tra l'accumulatore e il nostro valore qui non mettiamo un valore iniziale e quindi all'inizio h varrà 5 e avremo il val che via via assumerà i vari valori all'interno dell'array e quindi avremo che combinazione qui 5 è il primo e quindi l'accumulatore starà 5 sempre sin dall'inizio se avessimo avuto l'ordinamento il contrario un ordinamento casuale nel momento in cui troviamo il massimo l'accumulatore manterrà il valore del massimo fino alla fine e quindi la funzione ritornerà questo valore all'ultimo giro quindi spero che abbiate capito come funziona questa reduce e provate a scrivere questo pezzettino di codice semplice dentro che so node quindi tramite visual studio code e andate a fare la prova con valori differenti per il vostro array e vi renderete subito conto di come funziona potete potete inserire anche un breakpoint all'interno della funzione di callback così ogni volta vedete quali valori assume e così via questa è la rappresentazione diciamo un po' più leggera di quello che abbiamo visto finora quindi const ingredients wine onion mushroom quindi c'è vino cipolla funghi diciamo il nostro array riduciamo questo array a un singolo output quindi prendiamo gli ingredienti reduce c'è l'elemento iniziale la salsa che è quella fissa che per noi era lo 0 l'1 nell'operazione matematica e poi l'item sarà il vino la cipolla eccetera e aggiungiamo alla salsa l'elemento cucinato e quindi qui diciamo scherzosamente abbiamo invocato una funzione sull'item cosa che possiamo appunto tranquillamente fare e alla fine ci ritorna la salsa piena piena nel senso di aggiunta a tutti gli elementi cucinati possiamo dare un'occhiata effettivamente a quel pezzo di codice che abbiamo visto sulle slide quindi ho semplicemente fatto copia e incolla del pezzo di codice delle slide nel visual studio e possiamo per esempio mettere due breakpoint uno qui quindi sull'operazione della callback uno qui per esempio e vedere che cosa succede nel momento in cui debaghiamo con ovviamente debugging in maniera che si ferma in maniera che l'operazione si fermi l'esecuzione si fermi sul punto di breakpoint quindi abbiamo fatto reduce su 5,4,3,2,1 dove facciamo accumulato più current value se mettete il breakpoint a questo punto potete leggere qui a sinistra nella finestra che vi visualizza il contenuto delle variabili quanto vale l'accumulator e il current value ad ogni giro vedete che l'accumulator al primo giro la prima volta che ci fermiamo vale 0 il current value è 5 quindi è il primo elemento del nostro array andiamo avanti quindi verrà fatta l'operazione di somma verrà ritornato il valore e nel momento in cui ritorniamo avremo l'accumulator che vale non più 0 ma 5 e a questo giro avremo il secondo elemento 4 e quindi vedete 5 più 4 diventerà 9 e verrà rimesso nell'accumulator quindi se andiamo avanti return value 9 9 più 3 return value 12 12 più 2 return value della funzione 14 il 14 andrà a finire nell'accumulator più 1 15 e a questo punto avremo finito qui non ho messo una non ho messo un console log ma se aveste voluto vedere il risultato di a reduce non c'è il valore di ritorno avreste visto 15 potete mettere console log di qualcosa che è il valore di ritorno e quindi avreste visto 15 andiamo avanti sul secondo break point e quindi vedete nel secondo break point è sempre lo stesso vettore e quindi al primo giro abbiamo hatch accumulato vale 5 e il value vale 4 siccome non è stato specificato un valore iniziale non ho messo 0 perché avrebbe diciamo sporcato i valori presenti nell'array si inizia direttamente utilizzando come primo valore il primo elemento e il secondo il secondo elemento e quindi 5 5 è maggiore di 4 e quindi hatch varrà sempre 5 se andiamo avanti il valore di ritorno è 5 poi 3 il valore di ritorno è sempre 5 e così via e potete andare avanti e ovviamente potete fare tutte le prove che desiderate cambiando per esempio che so 3 che so se mettiamo 2, 5, 4 appunto cambiamo un pochettino potete fare tutte le prove che desiderate e rendervi conto di come funziona semplicemente usando il debugger quindi qui abbiamo 2 2 maggiore di 5 no e quindi verrà ritornato 5 e quindi avremo il valore di 5 5 ci sarà 4 resta 5 e così via e quindi potete fare tutte le prove che desiderate ripeto questo è solo il pezzettino di codice copiato incollato dalle slide vediamo un paio di esempi meno scherzosi diciamo un po' più pratici diciamo che abbiamo un array di oggetti in cui abbiamo una certa serie di proprietà in questo caso sono dei veicoli con un certo costruttore modello tipo di veicolo e prezzo così tanto per fare un po' di esercizio diciamo che siamo interessati a calcolare qual è il prezzo medio dei SUV quindi prima di tutto dobbiamo filtrare questo array e prendere solo gli elementi che ci interessano quindi gli elementi relativi ai SUV dopodiché ci interessa andare a recuperare il prezzo e andare a fare il calcolo della media di questo prezzo abbiamo tutte le funzioni che ci servono nella programmazione funzionale per fare questa operazione quindi il nostro risultato è vehicles il nostro array originale in cui prima di tutto applichiamo punto filter una callback quindi una funzione che dato l'elemento v e in questo caso v è l'oggetto tutto l'oggetto andiamo a prendere la proprietà type e vediamo se è uguale a SUV se è uguale a SUV allora teniamo l'oggetto meglio il riferimento all'oggetto come si fa in javascript all'interno del nuovo array ritornato da filter quindi c'è un nuovo array ritornato da filter che è un array che ha solo gli oggetti che sono che sono col valore type uguale a SUV a questo punto appliciamo l'operazione di map perché ci interessa avere un nuovo array che ha solamente i prezzi quindi da v che è l'oggetto l'oggetto intero andiamo a prendere v price quindi nel nuovo array ci saranno dei valori numerici che sono i prezzi a questo punto applichiamo l'operazione di reduce l'operazione di reduce prendiamo la solita callback che abbiamo visto prima che è particolare per reduce e quindi ha un accumulatore ha un valore che è quello che via via assume tutti gli elementi i valori di tutti gli elementi dell'array e ricordate dalla map sono usciti i prezzi quindi l'array di prezzi e andiamo a fare l'operazione di calcolo della media all'inizio sum vale 0 questo è il valore iniziale questo è un virgola 0 e questo è un parametro della reduce l'altra tutto il resto è la callback all'inizio vale 0 quindi la prima operazione prendiamo il primo prezzo facciamo sum più price diviso lunghezza dell'array price diviso lunghezza dell'array non sum l'operazione qui a precedenza quindi ci serve l'array perché dobbiamo conoscere la lunghezza perché così alla fine abbiamo non il prezzo totale di tutti i SUV ma semplicemente la media quindi possiamo dividere ogni singolo prezzo per il totale numero totale di elementi e alla fine avremo il valore che è già diviso per il numero totale di elementi questa è semplice matematica vediamo infine un esempio diciamo un po' più pratico e forse anche un po' più vicino a quello che vogliamo poi andare a fare in questo corso che non è un corso di pura programmazione ma vogliamo scrivere applicazioni web quindi guardiamo come applicare queste funzionalità che abbiamo visto quindi che sono for each filter map eccetera in un caso più diciamo vicino quello che vogliamo fare quindi per esempio quando lavoriamo con gli elementi del DOM quindi della pagina html guardiamo questo esempio che è di fatto una cosa diciamo applicata a quello che abbiamo sviluppato nei laboratori e quindi abbiamo una left sidebar in cui abbiamo una serie di link a elementi A che sono quindi le anchor i link in html a cui aggiungiamo dei listener per il click e andiamo a diciamo svolgere delle operazioni che adesso descriviamo quindi in parole povere in questo frammento di codice che quindi andrebbe caricato nella pagina html che è quella che usiamo diciamo nel laboratorio per esempio andiamo a prendere tutti gli elementi di nella left sidebar che sono delle anchor e quindi dei link e su ognuno di essi andiamo ad applicare delle operazioni foreach è una delle prime metodi che abbiamo visto notate che qui il foreach funziona su ogni iterable quindi su ogni elemento che può essere iterato quello che viene ritornato dal query selector all non è un array abbiamo detto che assomiglia ad un array ma non è un array ma per nostra fortuna può essere direttamente iterato e quindi possiamo direttamente applicare il foreach cosa che invece non si riuscirà a fare col filter e map perché quello che viene ritornato in realtà è un node list e quindi dobbiamo prima trasformarlo in un array ma l'operazione è semplice dunque per ogni elemento andiamo ad aggiungere item quindi l'item sarà l'elemento DOM andiamo ad aggiungere l'event listener click e una callback questa callback prende l'evento come sappiamo perché le callback dell'event listener prendono l'evento e poi svolge delle operazioni la prima operazione che svolgiamo è quella di renderlo attivo se non era attivo e disattivo se era attivo quindi toggle sulle classi aggiungendo o togliendo la classe active se abbiamo scritto bene il css per esempio usando le classi di bootstrap questo farà in modo che questo link diventi colorato non colorato quindi si veda visualmente che è stato selezionato o non selezionato e a questo punto ci piacerebbe avere un vettore con tutti gli id dei filtri selezionati e quindi delle ancore dei link a selezionati assumendo che ovviamente ognuno abbia un suo attributo id ma questo diciamo è abbastanza ovvio e probabilmente è una maniera ragionevole di procedere per poter diciamo andarli a recuperare a recuperare il loro valore singolarmente quando necessario della nostra applicazione quindi a questo punto siamo nell'event handler vi ricordo che siamo nell'event handler perché questa è la callback registrata con l'event listener nel momento in cui qualcosa è cambiato quindi qualcuno ha cliccato ha fatto un click su uno degli elementi A della left sidebar andiamoci a prendere una lista di nodi che sono di nuovo tutti tutti gli elementi che su cui stiamo operando forse avremmo potuto addirittura anche scrivere il diciamo no in questo caso non possiamo scrivere noi siamo dentro la callback quindi dobbiamo andarcela recuperare quindi non siamo dentro una map reduce saremo dopo come vi dicevo non possiamo scrivere nodlist punto filter che sarebbe carino però se lo provate provate pure a farlo vedrete che il browser si lamenta si lamenta perché nodlist non ha il metodo filter non ha il metodo map questo perché è come dicevamo un tipo array ma non è proprio un array funziona quasi come un array nel senso che ci trovate alcune proprietà punto length ci trovate appunto la possibilità di iterarlo ma non è esattamente un array e quindi certi metodi che sono disponibili sull'array come appunto filter map non sono su nodlist perché nodlist diciamo così non eredita dall'array questo ci verrà più chiaro quando parleremo di ereditarietà allora la prima cosa che possiamo fare è convertirlo in un array l'operazione è molto semplice un esempio è usare l'operatore spread l'operatore spread crea un array quindi scrivendo in questa maniera abbiamo risolto il nostro problema oppure potremmo usare array from che è un altro modo per creare un array da un elemento iterabile a questo punto filter list quindi ce l'abbiamo no scusa filter list è il valore di ritorno abbiamo questo nodlist questo è solo un commento quindi su questo nodlist abbiamo fatto punto filter nodlist punto filter filter item filter item class list contains active quindi questa ritornerà true o false se ritorna true allora la tengo e allora se la tengo avrò un array un array di nodi che sono i soli nodi che hanno la class active quindi anche il nodo sul quale ho cliccato si è diventato active questo non lo so e tutti gli altri su cui avevo già cliccato in precedenza che erano active e a questo punto siccome io volevo gli id faccio semplicemente map filter item filter item punto id perché sapete che c'è la proprietà id direttamente accessibile dal nodo nel momento in cui la vogliamo accedere e quindi vogliamo conoscere il suo valore il risultato è che dal map viene ritornato un array che è questo filter list che è proprio un array di stringhe che sono le stringhe che sono i valori dei dd filter import filter private e così via quindi questo è un esempio di come usare questi metodi della programmazione funzionale filter map for each nel caso di di javascript che lavora sul DOM per ottenere quello che desideriamo in questo caso qui abbiamo ottenuto un array con tutte le descrizioni dei filtri da applicare dei filtri attivi questo era un esempio e quindi poi una volta che abbiamo questo array possiamo farci tutto quello che vogliamo come su un array qualsiasi dstring avremmo potuto magari fare anche un'operazione differente direttamente dentro il map e così via quindi qui la fantasia e diciamo comunque la capacità di programmazione è lasciata appunto chi sviluppa il codice però qui era giusto per farvi vedere qualcosa che si concludesse e avesse un risultato e per esempio questo potrebbe essere che so filter important filter private che stesse erano attivi questi due filtri in questo momento abbiamo quindi concluso questa descrizione della programmazione funzionale e se siete interessati come spero a questo tipo di approccio qui avete risorse per approfondire anche link interessanti da leggere sono di solito letture abbastanza brevi che però vi fanno capire più o meno il tipo di approccio e l'idea alla base di questi di questo paradigma funzionale che può essere diciamo abbastanza interessante e vi invito a dare un'occhiata a quei link e soprattutto a prendere confidenza con questi filter map perché li troveremo spesso nel codice soprattutto il codice scritto da altri e anche più avanti nel corso soprattutto per esempio il metodo map viene abbastanza naturale utilizzarlo appunto quando abbiamo degli array anziché scriverci il for of che rende tutto meno elegibile eccetera e appunto diventa spesso complicato da utilizzare grazie per l'attenzione